Dopo una quarantena di due mesi l'Italia si è rimessa in moto, da nord a sud delle città si rianimano, al lavoro oltre 4 milioni di persone. Finito il lockdown, controlli delle forze dell'ordine sulle norme anti-assembramento, distanze di sicurezza e mascherine. Ripartono le città, Milano traffico in aumento, i bar rianimano Roma, Napoli folla sulla circonflegrea, Torino fabbriche al lavoro. Appello di conti alla responsabilità, il futuro del paese è nelle nostre mani, ripartire in sicurezza ma senza vanificare i sacrifici fatti. Ultime limature al decreto economico anti-covid, gualtieri per le aziende e anche interventi a fondo perduto per investimenti e innovazione. Contagi in discesa, gli esperti raccomandano cautela, distribuiti 150.000 teste sierologiche per mappare la popolazione. L'Europa ha la prova della riapertura tra speranze, cautele e nuove regole. Molti paesi provano a ripartire dalla Lituania a Cipro, prove di normalità in Asia, dalle scuole in Vietnam allo shopping in Corea del Sud. Buongiorno dal Tg1.